Dal 9 al 12 ottobre si tiene qui a Bologna il SAIE, la Fiera delle Costruzioni, arrivata alla sua 57esima edizione. Una iniziativa nata proprio qui a Bologna negli anni del boom industriale, negli anni 60 il grande boom economico con il grande sviluppo delle costruzioni e delle infrastrutture, che ha trovato il suo logo elettivo proprio qui in questo progetto lungimirante e visionario che assume da subito un ruolo essenziale per lo sviluppo del paese. Edizione 2024 con oltre 560 espositori, 232 convegni di aggiornamento e ben 29 eventi speciali dedicati ai principali trend del costruire. Dal 2018 Senaf, che organizza il SAIE, ha scelto di creare una sinergia virtuosa tra Bologna e Bari. Il SAIE infatti si svolge negli anni pari qui a Bologna, negli anni dispari a Bari. E da quando è stata proposta questa sinergia, i risultati sono stati davvero sorprendenti. I risultati sono eccellenti. Siamo reduci dall'edizione dell'anno scorso a Bari, dove SAIE ha coinvolto più di 400 espositori e è diventata il punto di riferimento per la filiera delle costruzioni di tutto il centro-sud Italia. Oggi invece siamo qui a Bologna e apre la 4 giorni bolognese di quest'anno, con oltre 560 aziende. La connessione tra le due piazze è molto forte e integrata. Molti espositori che hanno esposto a Bari sono oggi presenti qui a Bologna e è la stessa cosa. Molte aziende che sono oggi a Bologna saranno presenti come espositori alla prossima edizione di Bari, che si terrà dal 23 al 25 ottobre. SAIE vuole essere una manifestazione che rappresenta tutta la filiera delle costruzioni e il punto di riferimento sia per il centro-nord Italia qui a Bologna che per il centro-sud Italia Bari. Una piattaforma per tutta la filiera e l'anno prossimo saremo Bari come punto di riferimento di tutto il bacino del Mediterraneo per presentare le tematiche più interessanti per tutto il comparto, dalla sostenibilità alle infrastrutture, passando per l'innovazione e la digitalizzazione e soprattutto dando valore alle competenze delle persone, quindi gli operatori che lavorano all'interno del nostro settore, che sono fondamentali per contribuire alla crescita del nostro comparto. Ricca la presenza di aziende pugliesi qui a Bologna nella edizione 2024 del SAIE e sono tante inoltre le aziende del centro-nord che hanno già opzionato il proprio spazio nella edizione 2025 del SAIE in programma Bari.